Le spese straordinarie per i figli. Quante guerre in tribunale. Non potete immaginare le battaglie che vedo tutti i giorni, che ho vissuto in questo studio. I figli hanno il diritto di essere mantenuti, hanno il diritto di avere le risorse per andare avanti quando c'è una separazione o un divorzio. Loro hanno un diritto, attenzione, non è un regalo dei genitori. Ci sono due assegni, l'assegno di mantenimento, quello ordinario, il vitto e il vestiario. Ma ci sono le spese straordinarie. In molti tribunali si sono dotati di protocolli appositi. Ma quali sono le spese straordinarie? Sono quelle medico-specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sono quelle scolassiche e anche universitarie, quelle ludiche, quelle sportive e quelle ricreative. E dovete sapere che molte volte le spese straordinarie superano nel quantum quelle ordinarie. Ma sono spesso necessarie, a volte inderogabili soprattutto quelle di studio e mediche, tuttavia devono essere preventivamente concordate. Perché altrimenti chi se ne accolla senza il consenso dell'altro risca di doverle pagare per l'intero. Alla prossima! Grazie!